Musica Buongiorno e bentrovati, giovedì 11 agosto in regia con noi Nicola Passarelli e apriamo immediatamente il nostro giornale del mattino tornando a parlare di sanità. Oltre 1 milione e 600 mila euro, a tanto equivale il valore delle prestazioni extra budget effettuate dalla Cattolica nei primi 4 mesi del 2016. Si è appena chiusa una fase di contenzioso con la regione molise e già si determinano le condizioni per nuove questioni. Tutto questo in presenza di un piano operativo per la sanità e un accordo Stato-Regioni condizionati proprio al pagamento dei debiti pregressi con l'istituto fondato da Padre Gemelli. Il servizio di Pasquale Di Bello. Sentiamo. Le cronache agostane della regione molise propongono un leitmotiv che si ripete immancabilmente ogni giorno. Sanità, sanità, sanità. Un ritornello che unito al caldo rischia di sfinire oltre ai telespettatori anche il cronista. Tuttavia l'argomento non si può eludere, soprattutto se non passa giorno che Dio mandi in terra senza che da sotto qualche albero spunti un fungo con qualche sorpresa. Questa volta la novità, oltre al tono della notizia, assume anche quello della Beffa nei primi 4 mesi dell'anno in corso. La notizia è questa. La Fondazione Giovanni Paolo II, per brevità chiamata Cattolica, ha erogato prestazioni che superano il budget assegnatole dalla regione molise per la considerevole cifra di 1.625.000 euro e 48 centesimi. E parliamo delle sole prestazioni ospedaliere, escludendo quelle ambulatoriali. A certificarlo è la stessa regione molise attraverso due determine dirigenziali, la numero 1331 del 18 aprile 2016 e la numero 3501, recentissima del 25 luglio scorso. Se questa è la notizia scritta nei due atti, per trovare la Beffa bisogna andare altrove, esattamente al piano operativo straordinario per il riordino della sanità e al recentissimo accordo siglato lo scorso 3 agosto in conferenza Stato-Regioni. Dalla lettura congiunta dei due documenti si evince a chiare lettere un dato inequivocabile. Piano e accordo sono condizionati al pagamento del contenzioso pregresso con Cattolica e Neuromed. Il contenzioso pregresso per la cronaca nasce principalmente da prestazioni effettuate extra budget a cui si è posto rimedio attraverso specifiche transazioni che se da un lato hanno ridotto le pretese delle due strutture, dall'altra hanno determinato per la regione e quindi per i cittadini un esborso pronta cassa di circa 80 milioni di euro. Bene, non si fa in tempo a riparare una falla che scoppia un altro tubo. Il tubo in questo momento ha una portata di 1 milione e 600 mila e rotti euro destinata ad aumentare. Complessivamente il contratto firmato tra Regione e Cattolica assegna alla struttura fondata da Padre Gemelli 32 milioni 104 mila 120 euro all'anno di budget. Ogni bimestre da contratto non possono superarsi complessivamente 5 milioni 350 mila 687 euro. Il dato del primo bimestre registra un extra budget di oltre 318 mila euro, mentre quello del secondo equivale ad altri 1 milione 307 mila euro. A questo punto, come diceva un vecchio conduttore televisivo, la domanda sorge spontanea. Chi paga? O meglio, chi pagherà queste somme? Il contratto con la Cattolica, l'extra budget, probabilmente non lo prevede, ma è chiaro che di questo passo e visti i precedenti, quel contratto potrebbe diventare buono per i coriandoli a carnevale. E cambiamo argomento a gamba tesa, parte la 27esima edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana. Tre giorni dedicati a note e linguaggi del territorio. Negli ultimi anni la manifestazione ha coinvolto decine di artisti e band, anche molto giovani, che hanno riscoperto l'orgoglio e il valore del proprio dialetto. Questa sera i primi dieci partecipanti e tra gli ospiti la polifonica Monforte di Campobasso. Durante la serata anche un ricordo del compianto artista molisano Aldo Ricciardi. Il festival prosegue anche domani con altri concorrenti, mentre la serata finale di sabato 13 vedrà tra gli ospiti la band Cantine Riunite. In questa edizione si aggiunge anche un premio speciale decretato da una giuria popolare. E cambiamo ancora argomento. Nuova sede in via Corsica a Termoli per il supermercato Gran Risparmio. Si tratta di una realtà in crescita che dopo il negozio di Piazza Monumento ha aperto un secondo punto vendita da 700 metri quadri, creando dunque opportunità di lavoro per quasi 30 giovani in soli due anni. Sentiamo il servizio di Fabrizio Occhionero. Una storia imprenditoriale che parte da lontano, dal 1983, con l'apertura di un primo supermercato in Basilicata, poi nuovi investimenti e la consapevolezza di portare avanti un progetto aziendale che la famiglia Caputo è riuscita a realizzare con impegno e sacrificio. Da due anni è aperto un punto vendita in Piazza Monumento a Termoli. Ora è stato da poco inaugurato un nuovissimo supermercato in via Corsica, una delle principali strade di accesso alla città adriatica. Michele e suo figlio Fabrizio hanno condiviso una scommessa sul territorio per una realtà che ha già conquistato una clientela affezionata nell'attività aperta in pieno centro. Ora è una struttura allestita tra spazi ampi e moderni, dove resta l'obiettivo di base dei supermercati Gran Risparmio, prodotti di qualità e solo di grandi marchi a piccoli prezzi con tante offerte assicurate durante l'anno. Un investimento significativo che ha creato anche occupazione per quasi 30 giovani in un periodo di crisi e di mancanza di lavoro. Il secondo punto vendita che apriamo su Termoli è poiché abbiamo avuto un grande riscontro da parte della popolazione qua e abbiamo deciso di allargare il nostro orizzonte con un supermercato di 700 metri quadri. Abbiamo risolto il problema del parcheggio che era presente in centro, infatti questo punto vendita ha un ampio parcheggio. Perché investire in un periodo di crisi, in questo caso da padre in figlio? Perché noi crediamo molto in questo settore e inoltre diamo lavoro anche a parecchi giovani, infatti tra tutti e due i punti vendita siamo impegnati quasi circa 30 ragazzi. e questo insomma è un periodo di crisi che rafforza ancora più il congetto del lavoro. In tanti hanno già visitato i nuovi e ampi locali dove non mancano i reparti carne, ortofrutta e salumeria. C'è tendo assortimento e i prezzi sono buoni. Ha trovato convenienza? Certo, per spostarmi io abito verso Piazza del Papa per venire qui. Un bel tratto di strada vengo apposta proprio perché i prezzi sono abbastanza concorrenziali. Mi sono trovato bene, anche la gentilezza del personale, quindi lo consiglio. Sì, abbastanza, fino adesso vediamo che i prezzi sono abbordabili. Sono entusiasta di questa nuova opportunità di lavoro che mi è stata offerta e invito tutti a visitare questa nuova sede di Via Corsica. Ed ora diamo uno sguardo ai principali quotidiani regionali e nazionali con la nostra rassegna stampa. E come di consueto apriamo la rassegna stampa partendo dal giornale del Molise.it. In apertura, primo quadrimestre 2016, la Cattolica sfora il budget di 1.600.000 euro. Chi paga? Questo l'interrogativo. Il servizio è a cura, l'articolo è a cura del direttore Pasquale Di Bello. E ancora altre notizie. A Rio Nero Sanitico, la terza edizione del Vocapert Festival Alternativo. Elezioni provinciali. L'Udc voterà per chi è contro la soppressione. Termoli, il papà di Maurizio Lombardi, ringrazia tutti per la vicinanza e l'affetto dimostrati. Larino, dopo la scossa di terremoto, sopra luoghi negli edifici, si valuta rischio di vulnerabilità. E Venafro, senza lavoro e sussidi, protestano gli stagionali del consorzio di Bonifica. E ancora ex lavoratori, società esterne e centri per l'impiego, lettera aperta a Frattura. E ancora altre notizie nella sezione editoriali idee e opinioni, dalla regione, ancora dall'Italia e dal mondo. E dal giornale del Molise.it passiamo a primo piano Molise. Ecco, in apertura, provinciali, chiusi giochi, entro mezzogiorno le candidature. L'Udc si sfila dal centro-sinistra e passa con il centro-destra che dice no al referendum costituzionale. Antonio Battiste e Antonio Carlone in corsa per il vertice di Palazzo Magno. Due liste civiche a sostegno del sindaco di Campobasso. Taglio alto con le notizie. Università, costi del personale. Il MIUR promuove l'Ateneo Molisano. Unimol promossa perché il rapporto tra la spesa e le entrate certificato dal MIUR è inferiore alla soglia fissata dell'80%. Dal governo chiede il Cipe ai patti per il Sud assegnati alla regione 378 milioni, oltre 13 miliardi di euro per il masterplan. Il Cipe ieri ha confermato la quota di 378 milioni destinata al Molise. I debiti della sanità. L'Asrem comincia a pagare i creditori soldi a 1.200 fornitori. E ancora il cratere ripiomba nell'incubo di 14 anni fa, ieri sopra luoghi negli edifici pubblici. Nessun danno. Tanta paura per la scossa di magnitudo 3.5 e l'epicentro a 4 chilometri da Larino. E ancora da Termoli disposta all'autopsia sulla salma dell'autotrasportatore di 56 anni caduto mentre scaricava il latte. E ancora da Isernia piscina altri 300 mila euro per completare i lavori. L'opposizione chiede una commissione di indagine. E dall'Abruzzo, vasto, inchiesta sul cartellone estivo 2013, men accetta la sfida dei 5 Stelle. Nel pomeriggio seduta straordinaria. Le notizie di sport, oggi si scioglie il nodo Gironi, Lucchese, il lupo deve puntare in alto. In piazze come queste si prova sempre a vincere. L'intervista, panico, amerò sempre l'Isernia ma che delusione per il trattamento. Mercato, il macchia prende pure Pepe e Devizia, zurlo a campo di pietra del zingaro a Reccia. E da primo piano Molise, passiamo ora al quotidiano del Molise. Anche il quotidiano apre dal Cipe, 378 milioni al Molise. Inizia la fase operativa e gli investimenti verranno coordinati dalla nuova agenzia di coesione. Assegnata la prima tranche di finanziamenti rientranti nel patto per il Sud. Taglio alto, il MIUR, il rapporto è sotto la soglia dell'80%. Costi del personale ed entrate Unimol, promossa pieni voti. E ancora, rapporto annuale sul commercio estero. Export, il Molise schizza i vertici della graduatoria, più 36,1% oltre la media. Dal rapporto annuale sul commercio estero emerge che nel 2015 le esportazioni italiane hanno continuato a crescere ad un ritmo costante. E ancora, Isernia, piscina comunale gestore cercasi, quindi comune senza risorse, passo obbligato. Regione, sostegno ai bieticoltori, le aziende incassano, definita la graduatoria per l'ammissibilità. E ancora, scossa di magnitudo 3,7, terremoto nel cratere verifica in corso, l'epicendro tra Larino e Casa Calenda. E poi le notizie di sport. Serie D è il giorno dei gironi, Lupi e Agnone in attesa delle avversarie. Possibile un inserimento nel gruppo H. Serie D, Olimpia, sei reti nel test amichevole, in evidenza Tulinieri. Rocca Spinalveti al tappeto. Eccellenza, Isernia, mercato ancora caldo. Stefano Zurlo a campo di pietra. La società rosso-blu è sulle tracce di Guglielmi. Nuoto, campionati nazionali, Ant Joclu è di bronzo nei cento d'orso. Il molisano brilla a Roma. E dal quotidiano del Molise, passiamo al telematico futuro Molise. Attualità, debiti, Asrem, ok, pagamenti sotto 10.000 euro. Ci sono anche aziende che vantano crediti fino a un milione. Politica, metropolitana leggera, il Movimento 5 Stelle frattura il dovere di chiarezza istituzionale sull'intera vicenda. Lo deve a tutti i cittadini. Nel taglio alto, Isernia, avviso pubblico per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Emergenza, cinghiali, Di Pietro, attivate le procedure di richiesta dello stato di calamità. Il PSR 2014-2020 sostegno investimenti nelle aziende agricole. Facciolla pronta la graduatoria. Ed ora diamo uno sguardo ai quotidiani nazionali. Iniziamo, come di consueto, con il Corriere della Sera. In apertura, il fronte libico e i governativi di Serraj conquistano il quartier generale. Soldati stranieri, qui combattiamo solo noi. Sirte, battaglia finale contro l'Isis. Gentiloni, l'ambasciata Tripoli verso la riapertura medici italiani per i miliziani. E al centro, ecco una notizia, la fotonotizia da Rio 2016, lo smarrimento della Pellegrini che poi dice non finisce qui il dolore appunto rivelato di Federica. E dal Corriere passiamo ora alla Repubblica. Anche la Repubblica apre con Sirte. Nella battaglia con i soldati inglesi l'Isis perde terreno. Ecco come le forze speciali italiane addestrano i libici. I ministri Gentiloni e Pinotti rilanciare la difesa europea. E una notizia che arriva dalla città di Roma. Raggi, rifiuti a Roma, rischio sanitario. Ma la sindaca Blinda Muraro, l'assessora, colpa di sinistra e ama, dormivano. E dalla Repubblica passiamo ora alla stampa. La notizia in apertura. Libia, in azione unità speciali italiane, le forze governative annunciano la conquista del quartier generale del califo a Sirte. Per la prima volta Renzi autorizza una missione in base al decreto post Bataclan. Decine di uomini addestrano le milizie contro Mine Cecchini. Le forze governative annunciano la conquista del quartier generale del califo a Sirte. E in basso una notizia che arriva dalla Deutsche Bank. Berlino replica gli esami. Deutsche Bank rischia con una nuova crisi il colosso tedesco senza capitali. Il Financial Times, istituti italiani, è un problema per l'Unione Europea. Quindi l'allarme per le banche italiane potrebbe stendersi anche nel resto del continente. Ed ora passiamo dalla stampa a Il Tempo. Tornano le pensioni d'oro per gli onorevoli. Così apre il tempo. Privilegiosi e sacrifici. La consulta e il contributo di solidarietà non può essere rinnovato. Dal 2017 assegni vitalizi senza riduzioni. Il dossier agli italiani tolti 15 miliardi in due anni. E al centro la fotonotizia. Cantieri trappola i più pericolosi quelli di Roma. Voleva vedere le stelle ma precipita e muore in un garage abbandonato. E dal Tempo passiamo ora al messaggero. Ecco il messaggero apre con la riforma statale. Stop dei dirigenti. Il governo rinvia il decreto su incarichi a tempo, risultati e licenziabilità. Molte le resistenze. Approvato il taglio delle partecipate via 5 mila. Pensioni, il costo per flessibilità e no tax area. Accanto vediamo dibattiti sbagliati. Il referendum un valore che va oltre gli steccati. Anche qui la fotonotizia. Palazzo Chigi conferma ci sono sminatori ma non combattono. La battaglia conclusiva assirte tra le forze governative e i jihadisti dell'Isis. Libia è spugnata a Roccaforte Isis. Reparti d'elite italiani a Tripoli. Ed ora passiamo al mattino. In apertura sud 20 miliardi per il rilancio. In campagna fondi per trasporti, area ex nato, porti e San Carlo. Ma De Magistris non firma. Il Cipe stanzia le risorse per i patti del mezzogiorno e per le nuove infrastrutture. Le imprese spendere subito. Il commento. Se Napoli diserta il tavolo. Affirma di Massimo Adinolfi. Il caso dirigenti statali licenziabili. Stop dei burocrati. Le idee, scuola e paese. Il declino è figlio del consenso. E da il mattino passiamo ora all'avvenire. Anche l'avvenire apre con... In Libia ci siamo. Il fatto. Polemica per lo schieramento dei primi soldati italiani. Ad Aleppo i russi offrono tre ore di tregua al giorno. L'ONU non bastano. Sono presenti decine di nostri militari per addestrare il descio sconfitto a Sirte, da USA e forze di Saraj. E ancora anche qui una fotonotizia. Torna la tensione tra Mosca e Kiev. Allarme del nunzio. La Russia denuncia sabotaggi in Crimea. L'editoriale Il valore dei quarti. Si affirma di Alberto Caprotti. Ed ora passiamo al fatto quotidiano. Tutti zitti sui deliri della Boschi. Tutti contro la vignetta del fatto. Sessisti. Lei può dire chi vota no è contro il Parlamento. Ma guai a disegnare le gambe. Ci si riferisce alla vignetta riportata dal quotidiano nell'uscita di ieri. PD a testa bassa contro il disegno di Riccardo Manelli dedicato al ministro che abbiamo pubblicato ieri. La presidente della Camera Laura Boldrini. Uomini basta sessismo. La replica. Replica. Care i tromboni. Una coscia vi seppellirà. 500 milioni di bugie. Soldi virtuali per i poveri dimenticati. E anche qui. Olimpia di Roma. Ultimi assalti dei giornaloni e dei poteri forti. Lo scontro. Malagò offre modifica il progetto. La Raggi chiede soldi per le periferie. E dal fatto quotidiano passiamo a Libero. Così i No Global servono a qualcosa. Mettete i profughi nei centri sociali. Questa è la proposta. Comuni in rivolta contro il governo per gli immigrati. Caserme requisite per far posto ai nuovi arrivati. Ma una soluzione migliore ci sarebbe. E ancora la grande monnezza. Povera Raggi. Grillini a Roma si avviano al fallimento. In soli due mesi Superman non avrebbe fatto di meglio. E da Libero passiamo ora al manifesto. Ecco con la foto notizia. Fulmini di guerra. Le milizie libiche annunciano di aver conquistato il quartiere di Sirte occupato dall'Isis. Dopo dieci giorni dei raid americani il problema si sposta ora sul controllo dei pozzi petroliferi. A Zuitina sulla costa della Cirenaica a 180 chilometri a sud ovest di Bengasi il generale Haftar insidia le forze di Al-Saraj. Un'altra grana per i governi che lo sostengono. Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e USA. E ancora dal Campidoglio l'assessora Muraro scomoda. Ma Raggi la blinda. Viale Mazzini, i licenziati di Pomigliano davanti alla sede RAE di Roma per difendere la libertà di satira. E da il manifesto passiamo ora al secolo d'Italia. E anche qui abbiamo la fotonotizia. L'Isis nel mirino. Il blitz della polizia con perquisizioni sono avvenuti questa mattina in diverse città del nordreno Vestfalia. Tra cui Düsseldorf, Duisburg e Dortmund dunque in Germania. Contro alcuni sospetti legati all'estremismo islamico. In primo piano, Raggi rischi gravi a Roma e dice che non è colpa sua. Così Renzi ci ha traditi. Intervista a Guido Castelli. E ancora non ne avevano proprio più e la Pellegrini molla tutto. Ed ora passiamo dal secolo d'Italia al sole 24 ore. Con la notizia partecipate 5.000 in meno. Via al piano per gli esuberi. Tensione sul decreto dirigenti della pubblica amministrazione. Slittamento a fine agosto. L'ok definitivo al decreto legislativo. Codice amministrazione digitale. Addio alla carta. Rinviato. E dall'agenda per la crescita. Le mosse fatte e quelle da fare per spingere la produttività. Priorità al sud. Ora i progetti metro, strade e ferrovie. Dal Cipe 25 miliardi del fondo coesione. E dal sole 24 ore. Passiamo ora alla gazzetta dello sport. In chiusura. Con la notizia. Rio 2016. Argentati. Di Francesca. Un passo dal sogno. Innocenti secondo nel double trap. La campionessa di Londra perde per una stoccata. Dopo 20 anni non siamo d'oro nel fioretto femminile. Il tiratore toscano battuto da un quaiatiano in gara senza bandiera. Grande duello. L'Inter punta su Insigne. Ed è vicino a Yao Mario. Il Napoli rilancia sui Cardi. Non arriva a Segga Bigol. È pronto un piano B dei Nerazzurri. Che potrebbe portare il fantasista azzurro da De Boer. Trofeo team al Celta. Il Milan cresce bene. Ma perde col Sassuolo. Assalto a Bentancur. E ancora un'altra notizia che arriva da Rio. La Pellegrini non lascio con le lacrime. Solo quarta nei 200. Si infuria e pensa al ritiro. Poi cambia idea. Devo riflettere bene sul futuro. E con la Gazzetta dello Sport abbiamo terminato la nostra rassegna. Come sempre grazie e buona giornata. Grazie.